Era la giornata di sabato quando un gruppo di cinque sudamericani, tutti giovani, avevano deciso di compiere alcune rapine nelle strade di Rimini in sella alle loro biciclette. Armati di spranghe di ferro, prime vittime un gruppo di studenti spagnoli in città per il progetto Erasmus che nel mentre transitavano in Viale Mantegazza in zona Marina Centro si sono visti letteralmente aggrediti da questi cinque delinquenti perdendo cellulari e alcuni preziosi, il tutto con una violenza inaudita tanto da provocare il ricovero immediato in ospedale per uno dei malcapitati che gravemente ferito al volto sta subendo in queste ore un delicato intervento chirurgico. Immediato l'allarme al 113 ma i cinque non ritenendosi ancora soddisfatti prendevano di mira poco dopo altri due giovani ragazzi della provincia di Udine che per fortuna sono riusciti a fuggire dando il secondo allarme. Per fortuna è immediato l'intervento delle volanti della polizia di stato di Rimini che hanno permesso l'arresto di tre dei cinque sudamericani, tutti giovani, con età compresi tra i 24 e i 30 anni. Ora dire che c'è una banda dietro non siamo in grado di poterlo stabilire, anche perché sulla base dei nostri precedenti non risultano episodi come questo. Per quanto riguarda gli aggrediti stavano avvicinando all'albergo, quindi erano tutte persone che nulla che avevano a che fare con la possibilità di poter fare delle risse o episodi di violenza. Erano semplicemente di rientro agli alberghi di provenienza. Intanto sono in corso le indagini per assicurare alla giustizia gli altri due componenti del gruppo.